Da fan del primo film, del primo Beetlejuice dell'88, che è uno dei miei film preferiti in generale, non solo di Burton, è uno dei motivi per cui mi sono avvicinato a Tim Burton, ecco, da una persona come me l'approccio a questo film è stato davvero preoccupante, perché ovviamente i rischi erano altissimi, i rischi per un sequel di un cult come quello erano praticamente dietro l'angolo. E' anche vero che qualche rassicurazione me la dava la presenza stessa di Tim Burton alla regia, che comunque offriva un minimo di garanzia, anche se ultimamente, da quello che posso notare, si sta un attimo rimbambendo a causa della Bellucci. E una cosa che posso subito dirvi è che il film ha una evidente differenza tra la prima parte, che secondo me è da buttare, stupida, ridicola e tante altre cose non proprio lodevoli, dalla seconda parte che è invece nettamente migliore. La prima parte del film è infatti introduttiva, mettiamola in questo modo, serve a mostrare i nuovi personaggi, le nuove situazioni, tornano ovviamente i vecchi personaggi, quindi vediamo che fine hanno fatto i vecchi personaggi e introduce i nuovi, come il personaggio di Jenna Ortega, che vi dico subito che è uno dei problemi principali di questo film, perché il personaggio è estremamente antipatico, non si digerisce proprio, già non impazzisco granché per lei, proprio come attrice, e il personaggio non mi ispira nulla, anzi mi ispira di prenderla a ceffoni. E Bitter Juice rimane fuori praticamente da tutta la prima parte. E questo è un problema, perché il motivo di esistere di questo film, e anche di quello precedente, è proprio lui. Inoltre viene introdotto anche il personaggio di Monica Bellucci, e uno potrebbe chiedersi, ma che ci fa Monica Bellucci in un film di Tim Burton, in Bitter Juice? Per chi magari non segue il gossip, la risposta è semplice, stanno insieme, non so se sono sposati, ma stanno insieme. Tra l'altro il suo personaggio, vi dico solo questo per non farvi troppo spoiler, è praticamente un succhia-anime. Un succhia-anime. Questo dovrebbe spiegare a maggior ragione la sua presenza all'interno del film. Ma il problema è che il suo personaggio è praticamente inesistente, è una figurina palesemente inserita nel film perché Monica Bellucci doveva comparire, altrimenti non gliela avrebbe più data al povero Tim Burton. Anzi, grande Tim Burton, complimenti. Ebbene, come dicevo, la prima parte del film è tutta una presentazione, gag comiche che non funzionano, che non fanno ridere. La Ohara è diventata una macchietta poco divertente, mentre Winona Ryder sembra essersi dimenticata di come si recita. La seconda parte, per fortuna le cose migliorano, perché guarda caso compare Beetlejuice, o comunque è un po' più presente, e rappresenta la cosa migliore del film senza ombra di dubbio, forse l'unica cosa veramente buona del film. Le gag che fa Beetlejuice somigliano molto ovviamente a quelle del film dell'88, ma va bene così, alla fine il personaggio è quello, a me personalmente mi ha fatto divertire ogni volta che è comparso, quindi tutto a posto. Registicamente alcune scene sono effettivamente molto valide, sono infuse dell'immaginario, della fantasia bartoniana e del suo stile, quasi tutte le scene della seconda parte sono quindi esteticamente gradevoli. Il problema però è che la trama viene portata avanti dal personaggio di Jenna Ortega. Ora, la Ortega è bella e brava, tutto quello che volete voi, ma non sa recitare. Non mi dite niente, ma non sa recitare. Ha avuto successo perché? Per la viralità ovviamente della serie TV di Mercoledì, e perché ha questo fascino oscuro che comunque si adatta molto bene a determinati tipi di personaggi, tipo appunto quello di Mercoledì, o anche in questo caso, ma è il personaggio a non essere interessante in questo caso. Ma senza questo fascino verrebbe considerata probabilmente un'attrice mediocre. Il suo personaggio, come ho detto, è antipatico, quindi non frega niente a nessuno, ed è il personaggio che purtroppo porta avanti la trama del film. Tra l'altro nel film lei è ancora una volta una teenager, ma Jenna Ortega ha ormai 22 anni, probabilmente continuerà a interpretare teenager anche a 30 anni, anche se, te lo dico con sincerità, te li porti benissimo, però si inizia a vedere che non sei più una bambina, cara Jenna Ortega. Il finale, tra l'altro, è un po' strano, risulta poco conclusivo dal mio punto di vista, tant'è vero che io mi aspettavo una scena post-credit, e non solo io, infatti la maggior parte delle persone in sala sono rimaste in sala alla fine del film, perché ci aspettavamo qualcosa in più, proprio perché non sembra conclusivo al 100%, quindi mi ha lasciato anche quello un attimino perplesso. Registicamente, secondo me, è un punto positivo, perché il film è bello da vedere, Barton c'è e si vede, il fanservice ovviamente pure c'è, alla grande c'è, però è normale, anche perché questo è un sequel, non è un remake o un reboot, è un sequel, quindi è giusto che alcuni elementi ritornino dal film precedente. E quindi è un film a malapena sufficiente, dal mio punto di vista, se consideriamo soprattutto la seconda parte, sotto la sufficienza se consideriamo invece soprattutto la prima, quindi dipende anche voi quanto rimanete impressionati dalle due parti. Sta di fatto che è sicuramente un film evitabile, questo è poco ma sicuro, fatto perché a Tim Burton gli andava, e forse perché, che ne so, Monica Bellucci avrà detto, senti, voglio comparire in un altro film su un video, e quindi lui ha detto, ok, vabbè, facciamolo. E quindi rimarrà come il sequel gradevole di quello che a mio parere è un grande film, il primo Beetlejuice ovviamente. Detto questo, io ho finito, a presto, ciao!